Comitato scientifico regionale Non è coinvolto nella gestione dei dati Anche se la professoressa spiega La vicenda ha avuto un impatto negativo sui cittadini Ha avuto un impatto negativo sulla popolazione Perché adesso è un momento cruciale Il momento cruciale è quello della vaccinazione Etro e sento in giro la sfiducia della gente La sfiducia che non fa bene in questo momento La sfiducia è un problema grossissimo Noi dobbiamo vaccinare più persone possibile Perché più vacciniamo più apriamo Nelle ultime settimane la frustrazione dei siciliani è aumentata A Palermo gli esercenti sono scesi in piazza Per protestare contro la zona rossa A questo si aggiunge il dato sulla sfiducia Nei confronti di AstraZeneca Nei giorni scorsi è stato proprio il presidente Musumeci A far notare che l'80% dei cittadini Rifiuta il vaccino anglosvedese Siamo stati a Catania per sondare l'opinione della gente Non mi fido perché la cosa sembra andare a peggiorare Invece di migliorare Quindi non mi fido assolutamente né del vaccino Né come sta gestendo la situazione qua Del Covid, delle uscite Ma tu non ti fai il vaccino in generale O non vuoi fare AstraZeneca? No, l'AstraZeneca non voglio fare Perché ho riscontrato che con questa AstraZeneca Ci sono stati morti Ci sono state persone che si sono sentite male Quindi io non ho fiducia Anche se adesso si dice che questi dati falsati Era solo per evitare una chiusura Perché la crisi è forte La crisi si sente E quindi è ovvio che la gente da un lato dice Beh, abbiamo scongiurato un'altra chiusura Da un altro dice Allora non ci possiamo fidare Ma allora cosa dobbiamo fare? La situazione è un po' questa Di dubbio, di dubbio per tutto Siciliano è diffidente a prescindere Non entra nel merito di quello che dicono le autorità Le autorità sono un'altra cosa Non sono parte di sé Domenica si è chiuso il primo Open Weekend AstraZeneca La nuova strategia che la regione sta mettendo in campo Per aumentare la fiducia nel vaccino anglosvedese Possono essere vaccinati tutti i cittadini Che appartengono alla fascia 60-79 Che non hanno patologie pregresse E senza bisogno di prenotazione Immunizzare quante più persone possibile È cruciale per sostenere l'economia Di una delle regioni più povere d'Italia ed Europa Gravemente colpita dall'emergenza sanitaria Giorgio Orlandi per Euronews Catania